Al vaglio del governo l'ipotesi dell'obbligo di vaccino a scuola. Nessuna soluzione esclusa, ammette il ministro della salute Roberto Speranza, sottolineando che riportare tutti i ragazzi in classe in sicurezza e in presenza è una priorità dell'esecutivo. In questa direzione dare una spinta a una campagna di vaccinazione che finora ha visto l'85% del personale scolastico ricevere la prima dose viene visto come una possibile soluzione. La scuola assieme al lavoro e ai trasporti dovrebbe essere al centro di una nuova cabina di regia. Grazie a tutti.